Ciao, sono Giampi Allen e questo video serve a presentarmi e a farvi conoscere meglio il mio canale. Sono un partner Riot, un caster di Wild Rift, anche se in questo momento la situazione competitiva non è una delle più rose, ma principalmente sono un content creator per Wild Rift a tutto tondo. Su questo canale troverete tutto ciò che riguarda Wild Rift, quindi come patch, novità, tier list, build, gameplay, la lore, anche di League of Legends, infatti c'è una playlist che dopo andremo a vedere. E in generale tutto quello che mi viene in mente o che mi piace riguardo Wild Rift. Nasco principalmente come streamer sulla piattaforma Viola, che poi mi ha portato alla creazione anche di questo canale YouTube, ma prima di arrivare a questo discorso vi voglio parlare del canale YouTube, come effettivamente funziona, di quali sono le playlist importanti che dovete conoscere e quali sono le cose che contengono queste playlist, visto che ogni tanto mi sembra che qualcuno non riesca a trovare le cose giuste. Così saprete sempre bene dove cercare. Poi nella seconda parte del video invece vi parlerò proprio di me, di chi sono io, di chi è Gabriele invece di Giampi Allen e così via, ma quello lo lasciamo dopo, quindi partiamo prima da Wild Rift. Giveaway, quando posso ci sono anche dei giveaway, in genere ce ne sono almeno 10 al mese, perché la Riot tende a darmi dei codici Riot ufficiali in quanto Riot Partner, che poi io vi regalo durante le mie dirette. In genere sono più durante le mie dirette che su YouTube, perché ho provato a farlo in passato, ad esempio con i video della Lore, quindi che davo, facevo questo giveaway sulle persone che commentavano il video, e nonostante i numerosi post e ricordi, insomma, ricordarvi, ecco, che esistevano questi giveaway sui video della Lore, sono stati poco efficienti, quindi al momento sono solamente durante le dirette. È piuttosto facile partecipare, vi basta venire a vedere la diretta, venire a salutarvi, insomma, iscrivervi, e non dovete per forza essere abbonati, ogni tanto sono solo per abbonati, ma la maggior parte sono per tutti, e quando io durante la diretta darò il comando, tutti quanti scriveranno un determinato comando in chat, è piuttosto semplice, non servono altre conoscenze, e semplicemente potrete provare a vincere in quel momento. Come informazione generale tendono ad essere appunto tra i 10 e i 20-25 giveaway al mese, in base alla quantità di codici che la Riot mi dà, o se ad esempio ci sono VIP del canale o qualcuno che regala skin alla community, come ogni tanto succede. Ad esempio a settembre abbiamo appena completato questo evento, dove ogni diretta di settembre ho regalato un codice Riot, oppure c'è stata una mini maratona con 5 skin, e in generale ogni 3 mesi c'è una maratona, sempre sul mio canale, sulla diretta, sul canale Viola, dove vado a fare tantissime ore, la scorsa maratona ho fatto tipo 24 ore di diretta, divise in sabato e domenica, sono sempre nel weekend, dove appunto ci sono ancora più regali, si può giocare insieme, giocate con me durante i giorni subday, e durante queste maratone ci sono dei momenti in cui gioco con voi invitandomi, facendo ranked insieme, e se siete più bassi non vi preoccupate, perché utilizzo il mio account secondario, e insomma tutta questa parte qui sta nelle dirette, sta nei giveaway, ci sta tutto, e insomma spero di vedervi anche lì. Fun fact, questa parte l'ho registrata dopo la fine del video, quindi non so esattamente in quale punto la andrò a inserire, ma ti lascio al resto del video. Questo è il mio canale YouTube, quindi la prima cosa che vedete semplicemente è la preview qui del video, poi abbiamo le playlist, le cose importanti da sapere, a parte tutti i video qui vedete che c'è la playlist più importante di tutte, specialmente se state incominciando a giocare a Wild Rift e non conoscete le cose che riguardano il gioco, anche le più basilari, c'è la playlist scuola di Wild Rift. Al momento ci sono principalmente i video sugli oggetti, i video sulle rune, e in generale gli incantamenti, o comunque le cose che aggiungono importanti all'interno del gioco. Ma a breve arriveranno anche nuovi video su questa playlist, come ad esempio il glossario 1, il glossario 2, dove ci saranno tutti i termini, o comunque la maggior parte dei termini importanti da conoscere, e poi finalmente il wave management. Sì, sta arrivando, giuro, l'ho anche già salvato la parte registrata sul drive, così non succede il casino che è successo a tempo fa per chi conosce. E poi vi ricordo che qui c'è anche la guida completa ai migliori settaggi, o comunque in generale tutti i settaggi riguardanti Wild Rift. Poi voglio dirvi a cosa servono le playlist attualmente presenti sul canale. La prima la lascio per ultima perché capirete. Poi abbiamo le Wild Rift News, che sono dei video che cerco di pubblicare su base settimanale o bisettimanale, in base alla quantità di novità che ci sono, dove semplicemente è come un video d'aggiornamento, che in genere esce sempre la domenica, quando ci sono novità che vi voglio dare. Quindi non lo faccio a caso se non ci sono novità da darvi. Poi ci sono Build and Games, dove ci sono le build dei campioni e le partite prese generalmente dalle mie dirette. Quindi un gameplay può essere valido e bello anche se è vecchio, ma magari la build, se è di troppi mesi fa, è sempre meglio controllare che non ce ne sia una più recente. Poi abbiamo la scuola di Wild Rift, che vi ho menzionato poco fa. Poi abbiamo le Icons 2022, che sono i mondiali che ho castato in Clash House appunto nel 2022, dove c'è anche Paolo Cannone, sono solo quattro video perché il competitive comunque ne ho portato poco sul canale YouTube. Poi abbiamo le Storie di Runeterra, che sono un progetto che mi sta molto a cuore, che per ora è terminato, vedremo se ci sarà una seconda stagione, dove vi racconto delle storie riguardanti i personaggi di League of Legends, che comunque sono condivisi tra League of Legends e PC, Wild Rift e Legends di Runeterra, insomma tutto quanto. Abbiamo poi le Tier List, che ne escono o una o due per patch, in base alla durata della patch, quindi una Tier List completa con tutti i campioni, e magari una mini Tier List con dei campioni, magari uno solo per corsia, con qualche counter, qualche suggerimento. Abbiamo il tutorial con i campioni, dei campioni con le analisi, che metto quando esce un nuovo campione sul server ufficiale, dove io vi faccio vedere il campione analizzando un gameplay post, cioè nel senso che non è mentre lo gioco, tipo reaction o cose del genere, no, prendo il replay di quella giocata, di quel gameplay, e lo vado ad analizzare dicendo che cosa faccio, perché, mentre parlo del campione appena arrivato. Abbiamo poi l'introduzione campione, dove ci sono le introduzioni ai campioni che arrivano, quindi quando sta arrivando un nuovo campione io vado sul server cinese, o spero quello europeo, tra un po', dove vado a prendere le informazioni riguardanti quel campione, vi spiego come funziona un'abilità, come funzionano le loro eventuali combo, una prima build, o comunque una prima occhia dal campione, in modo che lo possiate conoscere prima che arrivi effettivamente sul server ufficiale. E poi abbiamo la playlist delle patch notes, dove semplicemente ci sono le patch notes ogni volta che escono. Tornando all'inizio, questo qui, questa playlist che vi ho detto che vi dicevo più tardi, abbiamo le guide lunghe con counter. Semplicemente sono guide definitive, guide un po' più lunghe, che ho potuto fare grazie agli abbonati. Infatti, adesso poi vi spiegherò come funzionano gli abbonati, e quindi quello che potete fare, che potete richiedere, che mi hanno appunto commissionato un video su un campione specifico, e quindi è un video più estensivo, dove ci sono magari informazioni su quando piccarlo, perché piccarlo, perché o come viene counterato, o se magari c'è qualche sinergia importante da conoscere, e ovviamente poi la build e il gameplay standard, come in altri video, quelli ad esempio di Build and Games. Una cosa importante di questi video è che sono disponibili per tutti, dal lancio, nessuno li vede prima, è semplicemente la richiesta fatta da questi abbonati, che mi permette di continuare a fare questo lavoro. Ad ogni modo, per chi mi volesse vedere in live, mi trovate attivo 6 giorni a settimana, tutti i giorni tranne il venerdì. Questi sono gli orari attuali, dalle 16 alle 20, tutti i giorni tranne il venerdì. Ovviamente questo è nel momento in cui sto registrando questo video. Qualora qualcosa dovesse cambiare, lo vedrete sul banner di YouTube, insomma in cima al banner proprio standard della mia pagina YouTube, ma in genere lo dico in tutti i video, e lo faccio vedere all'inizio dei video, lo dico sui miei social, quindi troverete il modo di vedere l'orario corretto, ma potete sempre chiedermelo magari in un qualsiasi video, mettendo un commento, ciao Jumpy, quali sono i tuoi orari, se proprio lo avete perso o non siete sicuri nel momento in cui sono cambiati. Comunque molti di voi mi hanno chiesto come possono supportarmi in questo mio lavoro, comunque per aver creato una community, per aver creato un posto dove divertirci insieme, per darvi tutti i contenuti e tutte le cose che vado a creare riguardanti Wild Drift, e quindi ho deciso finalmente di attivare anche gli abbonamenti qui su YouTube. Ma prima di spiegare come funzionano, vi ricordo che se mi volete supportare semplicemente gratuitamente, vi basta guardare i miei contenuti, scrivere nei commenti, mettere i like, cioè quel modo di supportare su YouTube che funziona sempre, quindi magari guardare il video per intero, non solamente saltare, ad esempio come mi capita sulle tier list, quando utilizzo Yumi per far magari metterci il campione nuovo, che manca ancora l'icona, e qualcuno mi fa, Jumpy perché hai messo Yumi in top? Io tipo, ma ascoltami. Tornando invece ai modi di supportarmi, se volete ce n'è anche un altro gratuito, cioè se avete Amazon Prime, lo collegate alla piattaforma Viola col Prime, e lo passate a fare. Ci sono persone attualmente che vengono a farmi l'iscrizione gratuita, appunto sulla piattaforma Viola, anche se effettivamente poi non mi guardano durante le dirette, ma dicono, ok, ho il Prime, ho Amazon Prime, li collego, faccio quella gratuita, e ti supporto senza spendere un centesimo. Ma tornando a YouTube, attualmente questo, tutto questo creare contenuti su Wild Drift, è il mio lavoro a tempo pieno. Quindi ho deciso, dopo in realtà un sacco di tempo, perché ho rimandato questa cosa per tanto tempo, di attivare gli abbonamenti, visto che qualche persona mi ha chiesto, ehi, perché non attivi gli abbonamenti, così posso supportarti? Una cosa importante che voglio dire riguardo a questi abbonamenti è che sono solamente una cosa in più. Non è niente di esclusivo, non ci sono contenuti creati in anticipo che vedranno solo quegli abbonati. Questo perché non volevo creare un dislivello tra le persone che possono permettersi di supportarmi e quelle che non possono. Semplicemente tramite gli abbonati, adesso andremo a vedere i livelli, come funzionano, queste persone mi aiuteranno a scegliere dei contenuti che vogliono vedere grazie al loro abbonamento e che poi io renderò disponibili per tutti, come ho già fatto, mentre ho attivato appunto questi abbonamenti. PS come sneak peek importante, sto lavorando anche a delle magliette che qualcuno ha chiesto, allora stiamo cercando qualche emoto, qualcosa di carino, per chi è interessato ad avere anche qualcosa di fisico, ma è un progetto che vi rivelerò nel momento in cui sarà attivo e funzionante. Comunque prima di parlarvi di me, in realtà come personal di fuori di Wildrift, passiamo velocemente ai tre livelli dell'abbonamento. C'è quello da 1,99 che serve solo a supportarmi, è quello che appunto costa pochissimo ed è solamente appunto 1,99 al mese, ma che se fate in tante persone aiuta veramente tanto, perché tra l'altro YouTube paga meglio rispetto ad altre piattaforme menzionate in precedenza. Poi con il livello da 4,99 potrete richiedermi la build di un campione che io realizzerò tramite uno short, alcuni reel short che avete già sicuramente visto sul mio canale, dove entro un minuto vi spiegherò una build al volo. Questa decisione l'ho presa perché mi è letteralmente impossibile coprire tutti i campioni del gioco, specialmente con rune e oggetti che cambiano spesso, quindi magari c'è qualcuno che vorrebbe vedere una build di un campione che in genere non affronto e che potrà utilizzare questo metodo sia per supportarmi, sia per vedere il proprio campione affrontato appunto in uno short o in una build. Infine sulla stessa scia abbiamo il livello 3, quello da 9,99, dove andrò a fare proprio un video completo riguardante un campione. Tra l'altro sono più approfonditi dei video normali che faccio per le build dei campioni, quelli con il gameplay, perché infatti andrò a vedere magari quando piccare quel campione, perché piccare quel campione, eventualmente se ci sono sinergie, specialmente per quanto riguarda support e ad carry, se ci sono dei counter anche per giocare contro quel campione, e comunque una parte iniziale del video molto più approfondita. E anche questo è stato fatto per lo stesso motivo di prima, non riuscendo a giocare tutti i ruoli e tutti i campioni, ed infatti uno dei video che ho creato per un abbonato è stato ad esempio quello di Mundo, io top gioco molto di meno rispetto ad altri ruoli, e mi sono divertito molto ad andare a creare questo video grazie a questo abbonato. Ma in generale qualsiasi livello degli abbonamenti lo potete fare semplicemente per supportarmi, non siete obbligati a chiedermi un reel o un video, come ha già fatto qualche persona. Comunque qualora entraste a far parte della famiglia delle margheretine e abbonate, sappiate che sarete in grado di vedere un post riservato agli abbonati dove rispondo e dove ci mettiamo d'accordo sui reel o sui video dei campioni richiesti. Ovviamente tutto ciò non andrà di influire sulla produzione di video già presente su questo canale, ma è una cosa in più che voglio dare alle persone che vogliono supportarmi. E ringrazio infatti infinitamente tutti voi che continuate a vedere i miei video YouTube, che continuate a supportarmi, anche semplicemente guardando i video, mettendo i like e commentando, e sappiate che lo apprezzo veramente tanto. E sono molto contento di vedere alcuni di voi che vengono a trovarmi appunto nelle dirette. Nonché ne approfitto per ringraziare infinitamente le persone che mi supportano con donazioni dirette o iscrizioni regalate al canale, perché mi hanno permesso di continuare a fare questo lavoro e tuttora mi permettono di continuare a fare questo lavoro. Quindi veramente un grazie di cuore. E sì, lo so che era un po' cringe il gesto, ma chi mi conosce sa che un pochetto cringe lo sono. Comunque da qui in poi vi parlerò di me, ossia di Gabriele, che è stranissimo anche per me solamente dirlo, quindi in realtà chiamatemi comunque Giampi, ma se vi interessava solo la parte di Wild Rift riguardante la contenutistica di Wild Rift, beh, vi auguro una buona giornata. Se invece volete scoprire qualcosa in più sul mio conto, beh, iniziamo. Sono ufficialmente un content creator di Wild Rift dal 10 dicembre 2020, cioè quando il gioco è uscito in Europa. Sì, c'è chi direbbe qualche beta con le VPN o tutte queste cose, ma ufficialmente è stato il 10 dicembre 2020. Ed è stato il momento in cui in realtà io ho ricominciato ad andare live sulla piattaforma Viola, perché in passato già lo facevo come hobby semplicemente. Ma ora è appunto il mio lavoro, e YouTube invece l'ho iniziato nell'aprile 2021, e col senno di poi probabilmente avrei dovuto iniziarlo prima, ma ogni volta ero, no, devo fare il video perfetto, devo essere bravo, e in realtà questo è un consiglio generale, iniziate a fare le cose il prima possibile, perché si diventa più bravi facendole. Non sto dicendo che sono necessariamente bravo a farlo adesso, ma sicuramente sono migliorato dall'inizio. Una cosa che alcuni di voi sanno è che pratico doppiaggio in maniera amatoriale, nel senso che ho iniziato da circa un anno a seguire corsi di edizione, di recitazione e di doppiaggio, e trovate questo sviluppo della mia passione nei video di storie di non terra, quindi quelle che riguardano la lore, dove ho provato a migliorarmi, e spero si senta dai primi video rispetto agli ultimi, ed è comunque un progetto appunto amatoriale che mi permette di affacciarmi in questo mondo che mi piace tanto. Frequento ancora l'università, che in realtà è stato un piccolo problema, o diciamo uno scoglio nella mia vita, nel senso che l'ho iniziata tanti anni fa, poi quando ho cominciato a fare questo lavoro c'è stato quel momento in cui, in realtà, anche se le persone non credono che sia così, fare questo lavoro ti porta via veramente tanto tempo, perché stai, tutti pensano, ah giochi, basta i videogiochi, in realtà fai social media managing, creazione di contenuti, editing, per fortuna non le grafiche, perché faccio schifo, e grazie a Ste di esistere, e quindi, diciamo, occupa molto più tempo di quello che si crede, in realtà non si fanno mai pause, non si va mai in vacanza, non si esce, ci sono tante problematiche, ma non è questo per lamentarmi, ma anzi, per farvi capire come ho trovato questo problema, nel continuare i miei studi, ma ho, diciamo, cambiato un po' la situazione al momento, e sembrano procedere le cose nella giusta direzione, ossia verso finalmente quella laurea, che prima o poi mi prenderò, e che mi porterà anche a un amichetto peloso, perché adesso vi do un'altra informazione su di me. Infatti, come molte persone, per fortuna, amo gli animali, ho un criceto, che alcuni di voi conoscono, che è Rick, che ogni tanto vedete nei miei social, lo trovate su Instagram, se sei curioso, perché magari ho curiosa, e hai appena sentito questa parte del video, vai su Instagram, cerca Rick Vitamia, tra le storie in evidenza, e potrai vedere questa pallina d'amore, che è veramente troppo carino, troppo. Per quanto riguarda, appunto, l'amico peloso, si tratta di un pomerino, cioè li chiamo così, ma sarebbero i volpini di pomerania, cioè gli spitz, ed è un, diciamo, un cane che prima o poi mi piacerebbe avere, perché? Perché non posso, tra l'altro, avere i gatti, in quanto sono allergico ai gatti, ma comunque preferisco i cani, e lo so, che mi nimicherò molti nerd, perché tutti i nerd hanno un gatto, però non posso averlo. Inoltre adoro giocare a pallavolo, anche se ho un po' di problemi a livello fisico, alla schiena, alle ginocchia, e di recente ho avuto un po' di problemi, per chi mi segue da tanto ha visto, che ho perso veramente tanti chili, ho avuto un po' di problemi di salute, sto cercando di rimettermi in sesto, però adoro giocare a pallavolo, e spero di riuscire a ricominciare. Inoltre, come alcuni di voi sanno, mi sono trasferito a vivere con la mia ragazza da circa aprile-marzo scorso, e quindi stiamo vivendo qui da soli, questo è il mio studio, che prima o poi riuscirò a farvi vedere completato, e sono, diciamo, è una cosa che mi piacerebbe fare, ma è ancora un gran bordello. E una nota a parte che volevo mettere anche in questo video, perché è estremamente importante ringraziare la mia ragazza, Virginia, per tutto quello che fa, per il supporto anche che mi dà in questo mondo, in questo lavoro, perché mentalmente, anche se non si direbbe, è un lavoro difficile e pesante a livello di numeri, di crescita, di difficoltà anche per il futuro, nel capire che cosa fare, quanto e come andare avanti, specialmente in un momento in cui anche le cose su Wild Rift non vanno proprio bene, e senza di lei, penso che non sarei sicuramente riuscito ad andare avanti, e non sarei dove sono adesso, e la ringrazio tanto, perché mi fa vedere sempre gli aspetti anche positivi di questo lavoro, gli aspetti positivi della community, e di tutto l'amore che mi date, e riesce sempre a mettermi un sorriso, a stamparmi anche un sorriso in faccia, e a darmi la gioia e la voglia di continuare, oltre che questo supporto incrollabile, quindi niente, nel caso lo stai guardando questo video, amore, ti amo tanto e ti ringrazio. Comunque, se sei arrivato a questo punto del video, io ti ringrazio veramente, veramente tanto, perché vuol dire che hai voluto ascoltare tutte le mie follie, tutti i miei modi in cui mi perdo sempre, mentre parlo, anche se cerco di restare sintetico, e io ho tagliato tanto, perché poi sono uno che si perde facilmente. E appunto apprezzo tantissimo, se anzi vuoi farmi capire di essere arrivato, arrivata fino a qui, puoi andare nei commenti, mettere il tuo pensiero, il tuo commento, quello che è, ma alla fine del commento, mettici tipo l'emote di una frutta, un limone, una pesca, una, qualsiasi emote, non importa, non voglio fare la lista di tutte le frutte adesso, però tu ci metti la emote alla fine, e io capirò che ho arrivato fino a questo punto del video. Io vi ringrazio ancora di cuore, vi auguro una buona serata, delle buone ranked, se le farete in questa season, vi aspetto in live, veramente vi aspetto in live, e noi ci vediamo al prossimo video.